Sono molto contento di essere venuto qui al Festival di Siloe, invitato da Fabio Sonzogni, in veste di giurato essenzialmente, ho visto dei film molto interessanti, è stato bello anche il lavoro di giuria, proprio con gli amici con cui abbiamo parlato dei film, siamo arrivati all'unanimità, appunto alla designazione di un vincitore che tra poco proclameremo e subito dopo la riunione ho avuto l'occasione, appunto sull'invito di Fabio Sonzogni di parlare a partire dalla mia esperienza del tema di quest'anno che è la ricerca della bellezza. Avendo fatto poco ancora e non è detto che quello che ho fatto appartiene appunto alla categoria del bello mi sono preso la licenza di occuparmi della prima parte, del titolo del Festival e quindi più della ricerca, come credo di intendere la parola ricerca come momento iniziale, movente, come forza che ci obbliga a una risposta, a occuparci di qualcosa, la ricerca come andare a caccia di qualcosa e quindi appunto parlando anche della caccia, lo spettacolo che ho fatto, questo destino che spesso ha il cacciatore di trasformarsi in preda, di essere anche pronto al rischio di essere dilaniato proprio dall'oggetto di cui andava a caccia. A partire da questo spunto iniziale ho cercato di fare delle considerazioni su che cosa significa necessità, urgenza di un'opera, cosa significa sentirsi mosso verso qualcosa che ci obbliga a rispondere a una piccola ossessione che ci obbliga a continuare questa ricerca.